Sarà un weekend all'insegna dell'arte, alla scoperta di quei luoghi culturali poco conosciuti e spesso inaccessibili. Sabato 24 e domenica 25 marzo tornano per la ventesima edizione le giornate fai di primavera, la rassegna che per due giorni apre al pubblico 670 monumenti in tutte le regioni del paese, tra chiese, musei, palazzi, ville private e giardini, per far scoprire agli italiani siti e tesori nascosti del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. In tutta Italia 670 beni aperti, ma in Campania 51, quindi la proporzione è grande. Siamo molto orgogliosi perché quest'anno, in questo weekend, a Napoli e provincia si aprono 25 beni. Se le pensa che solo nel 2007 erano un bene, nel 2008 due beni, che cosa abbiamo fatto di lavoro? Con il lavoro volontario dei 7 mila per tornare ai numeri volontari che lavorano in tutta Italia. Dal 92 ad oggi le giornate fai di primavera hanno coinvolto più di 6 milioni di visitatori e riportato in luce numerosi beni lasciati in stato di abbandono. In città sarà possibile visitare gratuitamente Villa Rosberi a Posillipo, le catacombe di San Gennaro, la sede del municipio con la basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Palazzo Zevaglios e il suo museo, mentre nel centro storico saranno aperti per l'occasione il Teatro Romano di Neapolis all'Anticaia ed il Convento delle 33. Dopo 15 anni San Giacomo apre le porte ai cittadini, ci saranno i giovani ciceroni del FAI ad accogliere i turisti e i cittadini che vorranno visitare il palazzo ed è un significato molto importante per noi che stiamo lavorando sempre più per l'apertura ordinaria di tutti i siti monumentali, di tutto il patrimonio artistico-culturale. L'elenco di tutti i monumenti aperti con le indicazioni per raggiungerli è consultabile sul sito www.giornatafai.it. A Napoli e provincia le visite saranno guidate da 1200 giovani apprendisti e allunni delle scuole medie e superiori iscritti al FAI che hanno seguito i corsi di formazione.